Ciao, creatura. Io sono Regate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gullai e S.M.R. Allora, dato che ho il volantino del Lidl da lunedì 8.11 al 14.11 e ci sono le cose del Natale, tutto pronto per il Natale, ho deciso di realizzare questo video in cui sfogliamo il catalogo perché so che ti piace tantissimo e quindi la faccio molto volentieri. Allora, andiamo a vedere qui in copertina solo le cose di Natale, non le altre offerte. Abbiamo l'astici americano precotto a 8,99 euro, i tortelloni ai funghi o ricotte spinaci, io li ho già mangiati, sono buonissimi, a 0,99 euro. Ho mangiato qui dei funghi, che qua dice ai funghi, ma in realtà sono ricotte funghi e sono veramente buoni. Poi c'è il gorgonzola top e mascarpone a 1,99 euro e il patè di carciofi a 1,29 euro, dice ideale per pasta e bruschette, purtroppo i carciofi non mi piacciono e quindi non lo andrò ad acquistare, ma sembra veramente appetitoso. Poi, qui siamo già alle cosine di Natale, subito appena girando la prima facciata e troviamo i macarons a 3,99 euro, i raviolini con formaggi a 1,39 euro, questi non li ho trovati, i medaglioni camberi e lime non li ho trovati a 1,39 euro, rubiola d'alba al tartufo a 2,49 euro, gli gnocchi ripieni con radicchio e scamosa o il tartufo, anche questi non li ho visti, però il tartufo a me non piace, poi c'è il tartufo estivo a 4,99 euro, i filetti di acciughe al tartufo nero, adesso iniziamo con le cose al tartufo che a me non piacciono, vabbè, 2,29 euro, poi il patè e i funghi porcini, questo fa voglia, ottimo per deliziosi crostini a 1,69 euro, la porchetta ricetta toscana a 1,99 euro, e questa novità che io non l'avevo vista gli altri anni e se c'era probabilmente era finita tutta subito, ovvero il panettone gastronomico dove ero 99, appena l'ho visto l'ho acquistato perché secondo me andrà a ruba, e io il panettone gastronomico l'ho mangiato durante altri anni, nelle feste di Natale fatto da mia zia e vorrei proprio farlo io, proporlo io quest'anno per Natale appunto per il 25 alla mia famiglia perché è buonissimo, sto già decidendo gli strati e sicuramente uno avrà salmone fumicato e avocado perché è troppo il mio preferito e un altro mi piacerebbe fare burrata e pomodoro, oh mi piacciono, poi la sto vedendo, vedrò, se tu hai qualche consiglio di abbinamento ripieno per il panettone gastronomico scrivimelo pure nei commenti, mi fa piacere conoscere le tue ricette segrete, non sono segrete, poi qua dice filetto di petto d'anatra, scusate c'è rumore fuori, a 5,29 euro, tirami su, questo l'avevo visto ma non c'era il prezzo perché stavano tirando fuori le cose di Natale, a 1,39 euro, il dessert al limone con granella di amaretto a 1,99 euro, è un cane che abbaia e profiterò il bianco con panna al cacao con uova da allevamento a terra a 3,99 euro, fa voglia, fa voglia sì, qua invece troviamo il gelato al gusto di salame al cioccolato, no devo averlo, questo assolutamente devo provarlo, tra l'altro il panettone gastronomico non te l'ho detto ma è in intenzione limitata e qua invece mi dice proprio un uovo, oddio lo voglio di questo gelato, 1,99 euro, il tris di panettoncini a 3,49 euro, anche questo è una novità di quest'anno, con farcitura di panna e latte, alle arance o al cacao, wow, panna e latte che buono, dessert stile greco e lamponi, mirtilli rossi o al mango e maracuia, io vorrei il mango e maracuia, a 0,99 euro e questo c'erano anche gli altri anni, il torrone tenero con diversi gusti, sono buonissimi questi qua, quello al cioccolato fondente gli amaretti i miei preferiti, a 1,49 euro e anche questa torta sbrisolona, mi ricordo l'ho presa anche un anno quando c'era ancora mio nonno, a 2,99 euro, quest'anno è il secondo Natale, senza di lei, però l'anno scorso non abbiamo potuto, sì anche l'altro anno, forse senza di lei perché c'era il covid, però lei era ancora vivo, oh che buono, vabbè non parliamo di cose tristiche, comunque lo farò a casa mia e quindi vorrei fare appunto il palettone gastronomico, oltre ad altre cose, a me rilassa pensare a cosa preparare e quindi, e sto già pensando, tutto pronto per il Natale, qui abbiamo, vediamo, questo sformato di patate dolci con M fa un sacco di voglia, 1,49 euro, le pappardelle ripiene con porcini e tartufo, ecco niente tartufo, mi si rovina tutto, 1,99 euro, questa pastina a caffette pre-fritta con glassa al miele mi fa una super voglia, questa, questa qui, cioè questa immagine qui mi fa famissimo, è una novità e sta a 1,99 euro, e wow, super voglia, questi vanno voglia anche, questi, anche questa è una novità e sono gnocchi, gnocchi ai ceci, curcuma e semi di chia, visto così sembravano gnocchi dal colore al pesto, e invece no, sono ai ceci, curcuma e semi di chia, 1,49 euro, fanno voglia, e armonie con parmigiano reggiano e tartufo, 1,49 euro, sempre con questo tartufo che non mangerò mai, e poi ci sono questi succhi e funghi a 2,49 euro, anche questo ce l'ha, ci fa notare che è una novità, e c'è sempre quel cavolo di tartufo in mezzo, mi fa ridere perché mi arrabbio con me, ma non sono arrabbiata, sto solo scherzando, però non mi piace effettivamente, c'è dei vicini che urlano, è tutto il giorno che urlano, quindi vabbè, frutti di cappero, a 0,99 euro, non mi piacciono, patè di cipolla, 100% cipolla rossa, di troppea, calabria, cipi, a 1,49 euro, questo mi piace, ma mi fa venire male i pancieri, quindi evito, poi chips di verdure con sale marino, queste sono buonissime, ci sono ogni anno e io me le prendo sempre, a 1,49 euro, sono veramente le più buone che io abbia mai assaggiato, tra tutte le chips di verdure che ho assaggiato nella mia vita, e non ne ho assaggiate poche, succo, funghi e tartufo a 2,99 euro, niente, c'è tartufo, c'è una foglia attaccata alla manica, mini volant van di pasta sfoglia a 1,15 euro, che in realtà con 1 euro, anzi con 69 centesimi forse, non mi ricordo, la pasta sfoglia dell'Ital mi pare che costi 69 centesimi, se non sbaglio, comunque con 1 euro ti prendi la pasta sfoglia e le puoi fare in casa, perché le ho viste fare con la pasta sfoglia in casa e sono facilissime, però qua ce le hai già confezionate, con i pirottini le ho viste fare, forse sul canale è fatto in casa da Benedetta, se non sbaglio, comunque, filetti di alici 2,49 euro, camembert di bufala a 3,69 euro, mi fa voglia, il soufflet cioccolato 2,19 euro, mi fa voglia anche quello, qua come al solito credo che ci siano i vari concorsi, e vabbè, non ci interessa, andiamo a vedere, qui cosa ci sono, dei dolci, altri dolci della favolina, biscotti speziati, 1,29 euro, dolcetti di pan speziato, io non so se mi piacciono, credo di no, 1,99 euro, medaglioni speziati, medaglioni speziati a 0,99, questi mi piacciono, i torroncini alle mandorle, 1,69 euro, che mio nonno, il padre di mia madre, appendeva all'albero di Natale, e poi, magicamente, l'albero di Natale, pian piano, aveva dei buchi, perché ci fregavamo i torroncini, dall'albero li mangiavamo, quindi, infatti, mi faceva ridere sto, in modo molto ninja, tra l'altro, dolcetti di pasta frolla, questi fanno voglia, 1,49 euro, la crema Speculus, che è quella biscotto, se non sbaglio, a 1,99 euro, e questa è praticamente burro, puro, altro che i tiktok, che sto vedendo io adesso, sto vedendo che tutta la gente mangia i panetti di burro, uguale, biscotti speziati senza glutine, a 2,49 euro, e il pan speziato senza glutine, giustamente, a 2,49 euro, con cioccolato fondente, e basta, per ora, con le cose di Natale, credo, però adesso diamo una breve occhiata, qui hanno messo delle cose Ferrero, di sinomaggio, magari, in offerta, tipo il Maxi Sorpreso, che è un uovo, poi, pre di Natale, ok, sono confusa, e, vabbè, torroncini, zanzi, barboni, qua, vediamo un po' che cosa c'è, nulla di Natale, però, questa barchetta, la parmigiana, a 0,79 euro, fa voglia, questa qui, strudelino di mele, a 0,49 euro, poi, diamo una rapida occhiata, qui ci sono le offerte, quelle della tessera, se hai la tessera, che era turn up, oh, dolci, che passioni, qui hanno messo tutte le cose per fare, oh, mamma mia, che belle queste decorazioni qua, per i dolci, per i biscotti, per i cupcake, per le torte, e c'è mix di decorazioni di zucchero natalizia, 2,29 euro, e hanno delle bellissime decorazioni, cioè, sono bellissimi, e anche queste decorazioni di zucchero, che belle che sono, 1,39 euro, wow, queste cose mi piacciono, mi piacciono molto, e poi ci sono dei prodotti bio per la preparazione di dolci e panificati, che non avevo mai visto, infatti è una novità, aspetta che lo guardiamo insieme, a me, questo qua, gelificante vegetale, polvere lievitante, lievito di birra e scorza di limone a 0,99, ah, interessante, e c'è il cioccolato a pezzetti, anche per fare i mini biscotti decorativi, no, ma che carini, li vedi, sì, granella croccante, 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 wow, e queste, queste selezioni di decorazioni per dolci, con zuccherini e cioccolato, ma che belle, bellissime, 2,49 euro, beh, mi piacciono queste cosine a me tantissimo, c'è anche la pasta di zucchero da modellare, 1,29 euro, credo in vari colori, sì, diversi colori a scelta, bellissimo, bellissimo, poi qua c'è una super offerta d'autunno, hanno fatto, hanno messo le zucche, i funghi, le mele, serenette, che bella questa pagina, i cacchi, mele, la grana, le castagne, che bella, mi piatta questa pagina qua, e qua ci sono le piante, vediamo, vediamo un po', che belle queste decorazioni, queste mi piacciono un sacco con le arance, che io ho provato a farmele a casa un mille anni fa, col forno, ma non ci sono mai riuscita a seccarle, non stai vedendo, aspetta, queste qui, perché, o il mio forno non è abbastanza potente, o non lo so, non vengono seccate bene, ci vorrebbe credo l'essiccatore specifico, e che appunto non ho, e quindi, va bene lo stesso potrei acquistarle a 1,99 euro, senza troppi problemi, effettivamente, e l'anno scorso mi ero presa un giacinto, anzi mi era stato regalato, viola, poi l'ho piantato nel giardino, chissà se quest'anno nascerà, o se è morto, non lo so, e poi ci sono delle piante verdi da appendere, dei bonsai, mini stella di Natale, che carino, super kawaii, 99 centesimi, e anche il kit per funghi, 5 euro 99, ah, poi ci sono le cose di Harry Potter, per chi fosse interessato, ho visto anche nella pubblicità la tv, personaggi Harry Potter a 16,99 euro, sono tipo delle Barbie, ecco, sì, e infatti c'è scritto prodotto tv, e anche il pigiama da donna, e la felpa da donna di Harry Potter, che è Primark, che è Primark, levati proprio, poi qua, il fantastico mondo dei giochi, perché giustamente, si sta già preparando, a farti acquistare, i doni per Natale, così ti porti avanti, e ci sono questi penarelli, con punta fine, o a pennello, a 4,99 euro, non è male questo, questo qua, e anche la tela per dipingere, te ne danno 4 pezzi, di questa qua, 20 per 20 centimetri, i tuoi pezzi, 40 per 40, 3 pezzi, questi qua verticali, che non stai vedendo nulla, e un pezzo, 50 per 70 centimetri, oppure 3 pezzi, 25 per 30 centimetri, a 4,99 euro, adesso non lo so, perché, le ho viste, le ho viste da Tiger, costavano tipo 3 euro, ma te ne dà 3 euro all'una, quindi, secondo me, non è male come prezzo, 3 euro all'una, quelle piccole, oh, finalmente anche questo, mi interessa, perché mi devo comprare la carta da regalo, che l'ho finita, e ho già acquistato alcuni doni, da fare a Natale, e quindi adesso mi serve la carta, regali confessionati con amore, dice, c'è la carta da regalo, 10 metri per 70 centimetri, 1 euro e 49, molto carina, questa qui invece, è carta da regalo, sempre 5 metri per 70 centimetri, a 0,99, molto carina anche questa, e poi qua, ci sono i biglietti di auguri natalisti, a 0,79, e la carta da regalo, 5 metri per 70, in carta riciclata, stampata su entrambi i lati, quindi è duble face, quindi è come se avessi due colori, a scelta, è 1,29 euro, ma non conviene alla fine, tanto vale prendere quella da 0,99, che tanto viene strappata e stica, giusto? Queste cose non ci interessano, cos'è sta cosa? Termoforo per spalle, nuca, ma cos'è? Sembra un macchinario di tortura, no? No, magari va bene alle cervicali, che io ho problemi, però anche no, poi attrezzi vari, bilancia digitale da cucina, qua c'è la miscelatore con led addirittura, non ci facciamo mancare nulla, diffusore di aromi e ultrasoni, questo è bellissimo, io ne ho uno simile, questo qui io ne ho uno simile, ed è, wow, io l'ho preso su Amazon, mi piace tanto, fa una bella atmosfera in casa, profumo, ti metti gli oli essenziali, e fa anche un po' design, oh, qua ci abbiamo, il Natale si avvicina, e ci sono giustamente delle decorazioni, tipo, questa tenda luminosa, e i tappeti, cattura sporco, vorrei un tappetino, io 4 euro, sai che i tappeti costano un sacco anche al mercato, anche su Aliexpress, i tappeti e gli ombrellini, quelli da borsetta, costano tantissimo ovunque, catena luminosa, palla di neve, pendente natalisse, portafoto, bello questo, è personalizzabile, quindi mi piace, e quelli cosa sono, decorazioni natalizie, anche che si illuminano, basta, finito, perché qua ci sono, le super offerte del weekend, ma non ci interessano, quindi, noi volevamo vedere cosa erano le novità del Natale, e adesso le abbiamo viste, per adesso magari poi potrebbe uscire qualcosa, di altro verso dicembre, non lo so, però spero che questo video, sia stato interessante per te, e ti abbia rilassata, creatura, io ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao, creatura,